Svegliati con il suono di un'emozione che anno dopo anno riaccende l'incanto dei nostri cuori inebriati dalle melodie inconfondibili dei nostri amatissimi pifferi e tamburi ed è con sincero orgoglio e con immutato trasporto che ci accingiamo a presentare a questa piazza il nuovo capo della festa colui il quale ci guiderà attraverso la storia della nostra inimitabile manifestazione sentite quindi le autorità cittadine alla presenza del brillante Stato Maggiore del popolo festante noi e Rino Mignone sostituto del Gran Cancelliere Teccano dei Notari e Porediesi Pierluigi Cignetti per la terza volta designato a trascrivere i processi verbali sullo storico libro del Carnevale di Brea abbiamo l'alto onore di scrivere sullo stesso il nome del capo della festa consapevoli delle regole che il nostro cerimoniale stabilisce proclamiamo generale per l'anno 2024 il cittadino Alberto Bossino grazie 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 Grazie.